eccoci a parlare con giovanni benedetto andiamo subito al cuore del problema intanto non mi pare che sia stata giovanni una giornata di grandi sorprese al di là gli scafati che ha preso questa bella abitudine di buttare nel canestro l'ultimo all'ultimo istante un tiro da tre e quindi è stata l'unica vittoria esterna ha un significato secondo te che sia stata è segnata un cambiamento o è un caso che una sola vittoria esterna c'è qualcosa che che secondo te può aver influito su questa unicità di risultato diciamo che scafati è diventato una squadra diverso dal mandare della noi tra il palermo spinelli tra il nuovo americano tra la struttura che aveva già comunque creato senza l'anno di un altro spessore ci ha dovuto fare in testa la classifica per capacità e struttura di squadra quindi che non riescano ancora a vincere fuori casa poi spinelli riesce sempre a risolvere la partita la risolta con noi in casa facendo un canestro a tre punti da otto metri e la risolta a roseto facendo un canestro a tre punti all'ultimo decimo di secondo quindi la qualità è un giocatore che ha fatto nazionale per tanti anni che ha sempre giocato in essere quando scende poi di categoria se se un giocatore che ha l'esperienza che ha lui la riesce a mettere in politica la squadra poi diventa determinante e fondamentale che si vinca molto in casa mi sembra una cosa abbastanza normale nel giorno di ritorno perché di solito poi si diventano sempre più raro le partite in trasferta perché il risultato e il peso di ogni singola partita è maggiore quindi diciamo che chi va fuori casa sa benissimo che incontrerà maggiore difficoltà diciamo che il campionato non fa altro che esprimere i valori che comunque sono stati modificati dalla fine del giorno dell'andata c'è tutte le squadre che sono rinforzate in maniera così evidente stanno iniziando a vincere con il vincolo in casa e quindi le partite in trasferta diventano il calendario 4 in casa 4 fuori che suggerimenti da l'allenatore è sempre preso dalla partita e quindi credo che insomma sia una delle ultime preoccupazioni ma naturalmente io qui cerco di rappresentare un po la voce di chi non fa l'allenatore e quindi ha delle curiosità io molte volte dico delle apprezzioni il calendario 4 più 4 cosa ti suggerisce Allora è sincero siamo le ultime otto partite dicendo che quasi tutti abbiamo quattro partiti in casa e quattro partiti fuori diciamo che dobbiamo cercare di affrontare soprattutto la prossima contro Ima noi avremo sette delle prossime otto partite con squadre che stanno in questo momento dietro di noi noi affronteremo la seconda parte della classifica l'affronteremo in queste ultime giornate di campionato tranne il Corravenna in questo momento ci supera che si sta da sopra quindi abbiamo incontrato tutte le diciamo le milioni fino ad oggi e abbiamo giunto la pensione tra due vittorie adesso da cercare di recuperare e cercare di far valere il fatto comunque di essere davanti a sette delle otto squadre che andremo a incontrare da qui alle prossime otto giornate Ecco quindi giustamente questa è una considerazione importante perché evidentemente come possiamo dire da un'idea di minore difficoltà io non ho detto di maggiore facilità perché mi avresti chiuso il telefono di minore difficoltà perché conosco bene poi ma giustamente la filosofia che insomma l'abbiamo visto non sono scafati latina forse lo stesso matera ancora poi le potenzialità ci sono e uno non sa mai in quella giornata come le sviluppo queste potenzialità ma veniamo all'ultima domanda che è un po' quella più generale io ho seguito con attenzione devo confessare seguo con maggiore attenzione le interviste dopo la sconfitta perché io vado sempre alla ricerca spasmodica ne abbiamo parlato qualche volta in conversazioni dirette vado sempre nella speranza che il Gaetano di turno il Giovanni di turno dicono sì ma comunque non preoccupatevi io divento molto ragazzino con lo sport e quindi il poter ascoltare non preoccupatevi è sempre molto rassicurante io avendo seguito le tue interviste mi sono fatto mi sono posto una domanda che ora giro a te evidentemente che è questa a Ferrara mi pare correggimi naturalmente se non sono nel solco dell'esattezza del tuo pensiero a Ferrara abbiamo giocato la raviola ha giocato una partita poi da ogni regime io mi ricordo delle tue parole miracolo sportivo e allora mi sono posto un po' questo quesito non stiamo non stiamo facendo in questo momento il miracolo sportivo peraltro senza essere blasfemi i miracoli non sono una roba da sul mercato cioè prendi uno come si dice prendi tre e paghi due insomma i miracoli sono le cose importanti avvengono nei momenti importanti però la domanda che ti faccio giovanni è questa tu sicuramente sei ancora più degli altri quello che può riportare non dico a livello di miracolo ma riportare la viola nelle vicinanze del rendimento tu certamente vorrai portarlo nella pienezza del rendimento ma nelle vicinanze di quel rendimento che ti piace parlare di miracolo sportivo e aggiungo c'è per caso qualche ci può essere qualche elemento nuovo qualche ostacolo nuovo su questa strada allora io penso che il miracolo sportivo possiamo ancora mangiare perché le strutture le squadre sono decisamente cambiate non siamo rimasti con la stessa identica struttura abbiamo inserito un ragazzo giovane forse inseriremo un altro trattato giovane ma siamo rimasti con una struttura perfettamente identica abbiamo fatto e abbiamo mantenuto il budget all'interno dei nostri limiti siamo stati virtuosi nel costruire la squadra quindi poi i miracoli bisogna anche rapportarli e cercare di capire se effettivamente così è stato ma solamente alla fine del canzionato oggi onestamente ci godiamo una posizione in classifica di tutto rispetto siamo comunque ancora diciamo attaccati alla parte alta della classifica molto di più che dalla parte bassa e abbiamo l'opportunità nelle ultime otto partite di chiudere in bellissima questo canzionato quindi quello diciamo che è la prospettiva che ci diamo e la potenza che abbiamo è quello che vorremmo fare quello che vorremmo tenere poi certo il miracolo sempre quando dico sportivo è proprio lo specifico sportivo perché è una cosa che comunque rimanere nell'ambito sportivo nello scherzo del divertimento c'è anche io dico miracolo proprio perché mi piace giocare un po' con le parole però oggi bisogna secondo me essere contenti di cosa siamo riusciti a fare certo sicuramente non stiamo e non siamo contenti dell'ultima prestazione offerta in diretta nazionale e davanti alle telecamere di Sky quello è una cosa che non fa felice me, non fa felice i miei atleti, non fa felice la mia dirigente non fa felice i miei tifosi quindi mi sembra ovvio che oggi abbiamo molto da recriminare abbiamo molto da pensare e abbiamo molto da lavorare perché quel tipo di partite non ci piace, non vorremmo più rivederle quindi diciamo che oggi il nostro obiettivo è cercare di essere un po' più squadre come l'altro l'abbiamo dimostrato per tante partite in tutto questo canzionale bene quindi insomma si può riprendere, chiamiamolo percorso virtuoso si può riprendere sicuramente, si può riprendere quel percorso virtuoso e questo naturalmente rasserena gli animi e in modo particolare ci consente di lasciare aperta la speranza sempre con i piedi per terra, cioè sempre tenendo conto che il settimo posto di oggi è un gran risultato probabilmente guardare più in alto non fa assolutamente male bene Giovanni, io ti ringrazio per questo non fa neanche bene, perché io voglio dire che probabilmente bisognerebbe guardare con tranquillità a quello che questa storia è riuscito a fare fino ad oggi e avere troppe aspettative secondo me non va bene né ai tifosi, né alla mia proprietà, né alla società, né tra gli stessi bisogna cercare di capire se la squadra effettivamente riesce a dare sempre il massimo questo non è capito domenica scorsa, venerdì anni scorsa quindi lì bisogna pacchettare, bisogna fare un mea pulpa per il resto mi sembra che la squadra abbiamo mantenuto quello che onestamente anche un po' di più di quello che onestamente mi poteva aspettare all'inizio però il canzionale ancora non è finito, ci sono otto partite a disputare poi alla fine di queste otto partite, ripeto, tireremo giù la linea verifichiamo chi effettivamente è riuscito a dare quello che ci aspettavamo che è stato al di sotto, che non vi dice meglio per riprogrammare una nuova stagione in questa nuova Serie 2 che ancora non si capisce bene come sarà strutturata Sì, come poi questo è un altro di quei discorsi che forse è un po' più difficile lavorare in teoria non sappiamo ancora neanche quale posizione di classifica dobbiamo tenere sott'occhio quindi perché se addirittura, lo diciamo a beneficio dei tifosi se addirittura si dovesse arrivare a un discorso di 6 della gold o di 8 della gold e 6 della silver insomma addirittura anche le parti alte della classifica avrebbero una certa flessibilità nel dire qual è l'ultimo posto importante però insomma così vanno le cose forse così è inevitabile che vadano c'è una difficoltà oggettive che non riusciamo a capire per cui non si può dire retrocedono queste e sono promosse queste altre però insomma bene Giovanni, ti ringrazio naturalmente perché è stato il solito momento di confronto in questo caso ci permettiamo di dire un po' sintesi di tutte le interviste che immagino siano sempre tante hai dovuto più volte purtroppo ripetere le parole su Ferrara e quindi da un punto di vista non tecnico è stato sicuramente un momento impegnativo quindi all'inizio e l' wedding di di d